Dopo un anno di didattica a distanza, l'Università di Salerno torna all'attività in presenza, una cerimonia ufficiale riapre l'Ateneo. Enzo Ragone. Ovviamente i corsi sono terminati, però gli esami si fanno in presenza, le sedute di laurea si fanno in presenza. Il momento importante, il mio invito ovviamente agli studenti, sia in neo matricolati, ma ovviamente già ai nostri studenti, e di vivere e di far pulsare di nuovo questa bellissima città universitaria a partire dal fine settembre. La speranza del Rettore dell'Università di Salerno, Vincenzo Loia, è che da settembre ci sia un vero ritorno alla normalità nei campus universitari di Fisciano e Baronissi, dopo un ultimo anno vissuto tra didattica a distanza e smart working. Un anno pieno di impegno da parte di tutte le componenti universitarie, a cui il Rettore ha voluto dare un riconoscimento in una cerimonia in presenza presso l'Aula Magna dell'Ateneo. Siamo una realtà particolare, una università non metropolitana, siamo in realtà quindi questa creatura particolare che è università, ma nello stesso tempo campus e nello stesso tempo città. Questo ovviamente rende le cose più complesse, le abbiamo in qualche modo vissuto con qualche, a mio parere, anche sofferenza come tutti, però resa appunto ancora un po' più profonda proprio per questa necessità di gestire, quindi con grande, a mio parere, attenzione come abbiamo fatto tutta la parte della sicurezza, considerando gli accessi, considerando la gestione dei casi Covid, perché noi eravamo, come dire, la cittadella universitaria.